grazie posso andare ragazzi è bellissimo sapere che il test è negativo è bellissimo bellissimo proprio e ho voglia di abbracciare proprio tanto la mia famiglia non vedo mio padre da un mese mia mamma è stata la prima giornata e abbiamo fatto circa un centinaio di operatori abbiamo rilevato tre positività agli anticorpi solo i gg teoricamente sono operatori che hanno avuto l'infezione e lo hanno superata perché hanno già secreto questi anticorpi anti gg ripeto però il test ha una sicura efficacia per l'identificazione del negativo per quanto riguarda il positivo invece devono fare il tampone quindi è una possibilità che tutta ancora da confermare l'operatore che per tanto tempo non si è auto isolato non ha visto più nessuno proprio perché lavora in reparti difficili sta a contatto con pazienti ha questa necessità di sapere se è negativo o è positivo quindi quando stamattina abbiamo dato le prime risposte di negatività abbiamo letto nei loro occhi veramente diciamo una una rinnovata serenità ripeteremo questo campione va ripetuto naturalmente quindi faremo questa questa prima tornata in cui screeneremo tutti gli operatori poi ci sarà una seconda tornata proprio per ripeto dare una risposta definitiva di negatività grazie a tutti